buongiorno dalla rassegna stampa di tef channel news apertura con il sole 24 ore monti per l'italia percorso di guerra un giorno dice che si riesce un giorno dice che è un percorso di guerra il premier la concertazione ha creato i mali attuali camusso non sa di cosa parla nel 93 salvo al paese l'intervento all'assemblea di abi al g8 20 di can berlusconi fu umiliato rajoy taglia 65 miliardi statali senza tredicesimi grilli diventa ministro dell'economia visco recessione del 2 per cento anche per il credit crunch dal sole 24 ore passiamo al messaggero nazionale monti monti contro la concertazione eccolo qua anche qui è il titolo che fa evidentemente scalpore la notizia fa scalpore e tra le cause dei nostri mari scoppia l'ira dei sindacati il premier per l'italia percorso di guerra grilli ministro dell'economia poi qui statali senza tredicesime guerriglia dei minatori berlusconi torna candidato al fano il pdl con lui nel 2013 c'era da aspettarselo gioco erotico turista grave roma ferita ragazza ferita abbandonata in centro non è stato uno stupro la giovane australiana operato d'urgenza i medici avevano ipotizzato la violenza una turista australiana di 22 anni è stata ricoverata in gravi condizioni a seguito di un gioco erotico la ragazza abbandonata sanguinante in una strada vicino a termini è stata trovata accasciata accanto agli scatoloni del mercato di via darese chi ha aperto i banchi ha visto quella ragazzetta minuta vittima di emorragia e lacrime immaginando che qualcuno l'avesse fatto del male il primo pensiero è la violenza la straniera racconterà più tardi non aver subito alcuna aggressione nessuno l'ha stuprata lei era consensente con quel ragazzo appena conosciuto chi è cagion del sumbal pianga se stesso il palazzo e l'affitto trasformato in acquisto provincia di roma è questa molto romana cosa vediamo un po l'editoriale stamattina richieste concrete risposte fideistiche la giornata della associazione bancaria italiana dove monti ha sparato contro la concertazione la nazione nazionale firenze monti è come una guerra risalita durissima verricoli fumigliato dal g al g20 grilli ministro dell'economia il premier contro la concertazione lira dei sindacati non sa quel che dice poi bellucci la regina non è più tempo delle attrici dive ibra tiago e max offerta adesso il milan vacilla salto da parigi 65 milioni poi la marcia dei minatori ecco il calendario del grande caldo invece giorni roventi alternati a piccole tregue il cavaliere riscende in campo mi candido eh ma voi ci pensavate che credevate che sarebbe uscito di scena io manco per niente il governo alle regioni tagli intoccabili sulle pensioni nessun rischio andiamo ancora a guardare giornali nazionali c'è il piere nazionale banche con monti vabbè questa non è una novità approvata la linea del rigore del premier archiviate le critiche spagna e austerity scontri e non va bene proprio nessun angolo di questo pianeta in un modo o nell'altro truffe truffe falsi incidenti lievitano i prezzi delle assicurazioni dopo gli esami tra università e mercato del lavoro la maturità scintille juventus fisicini ente stelle sulle maglie presidente agnelle attacca sul calcolo degli scudetti scure sugli uffici postali in in 1156 rischio chiusura cosa cambia in umbria toscana e marche risultati elezioni in libia vince il fronte moderato ex primo ministro gibril crollano le e i partiti islamici ed è probabilmente la prima volta dopo la primavera araba parcheggi difficili vietati alle donne in germania il sindaco della città del sud della germania ha evitato il parcheggio alle donne nei posti auto sotterranei della città di taivergo triber che lo scusa così negli agognati rettangoli delimitati da striscia hanno fatto la loro comparsa pittogrammi con simboli marziani venusiani sentiamo cosa da dire il primo cittadino in persona ci vuole anche un po di umorismo nella vita dice gallo strober naturalmente una città a vocazione turistica come la nostra bisogno di notorietà e in effetti è stato così missione compiuta abbiamo reazioni da parte del da tutto il mondo insomma vabbè ci si inventa tutto speriamo che sia solamente un escamotage per richiamare turisti il giornale dell'umbria bufera bps antoninico trattacca lotto per una banca autonoma lui dice marmore cascata al buio ricorso blocca di nuovo l'impianto di illuminazione multe arriva lo sconto a chi paga subito poste umbre die dise economici 50 sportelli centri impiego per un già posto in bilico per 50 partecipate della regione la revisione della spesa chi rischia da webred a sviluppo umbria terni imprese ternale in crisi 36 milioni di euro castello immobili irregolari il comune consegna l'elenco alla procura incendi roghi intesa forestale vocatura stangata sui distratti quelli che provocano comunque fiamme tragedia terni giovani si uccide dopo aver perso il lavoro recuperato il corpo di stefano il 22 anni era scomparso nelle acque del lago vediamo qui condomini a ter d'oro raffica di sfratti spese alle stelle morosi morosi i morosi sono in aumento fortissimo momento intanto l'azienda territoriale sospende i provvedimenti tredicesime addio e mi ricandido è berlusconi questa notizia più importante dal punto di vista politico messaggero locale caso bps l'inchiesta si allarga altro episodio di appropriazione indebita antonini accuse infondate sempre l'aria bossi da spoleto il soffio di umbria jazz tra tagli e memoria qui c'è ricorava nel suo progetto di rilettura dei brani di michael jackson processo appaltopoli sulle mazzette resta il muro di gomma e poi qui corsa contro il tempo per approvare il nuovo regolamento per le elezioni super caldo allarme sbadate a decine costretti a forzare le porte di casa a chiavi dimenticate psicosi da afa mia figlia non risponde al telefono i pompieri la trovano a dormire bufera quintana luca innocenzi escluso da ascoli vediamo se c'è qualcosa sì c'è una un intervento sulla spending review crolla l'universo delle partecipate beh probabilmente sarebbe anche ora credetemi che sarebbe anche ora con dei carrozzoni anche quelli non ho mai visto fare qualcosa di estremamente interessante ed efficace ancora altri due giorni bollenti e viva poi forse le cose miglioreranno intendiamo nel tempo nazione locale non c'è posta per te si gioca sul no sul titolo della trasmissione di maria di filipi colpo di spugna su 50 sedi da marini a roma difende i servizi sanitari e il tpl trasporto pubblico locale chi causa un incendio paga i danni il comandante della forestale conti salvare pochi etteri costa migliaia di euro ritrovato il corpo del ragazzo negato innocenzi fuori dalla quintana di ascoli piceno ridatemi il pc pronto a trattare con i ladri succede anche questo swap salati in provincia inchiesta a terni spending review da scuri dettagli colpisce gli uffici e fa riferimento alla grande foto centrale ma il rettore bistoni il ministero resiste verrà impugnata la sentenza del tar favorevole a volpi ma nel frattempo potrebbero anche celebrarsi le elezioni se non vado errato il corriere dell'umbria ultimo giornale scattano le verifiche sui furbetti controlli incrociati tra comuni perugia agenzia delle entrate lista nera con 160 potenziali evasori ruba le paste al bar giovane denunciato innocenzi punito il cavaliere non correrà ad ascoli qui a destra autolavaggi lavanderie nel mirino della forestale taglia gli uffici postali ne chiudono sei pulizie rifiuti alzano i costi della sanità superata la media nazionale il lago restituisce il corpo di stefano quel giovane di fogliano della chiama la mafia dei colletti bianchi tenta le imprese in difficoltà poi potere vaglie dipendenti rivolta economia che qui problemi perde il lavoro si uccide a 31 anni questo è successo a terni non vale mai la pena signori miei non vale mai la pena rifiutare la vita chi incendia paga svolta nella prevenzione discarica abusiva finisce sotto sequestro perugia città della pace del dialogo è mario tosti che interviene poi qui lo sport i tre strilli deferimento il grifo si difende il club è tranquillo arriverà solo un'ammenda per quanto riguarda invece la ternana toscana soddisfatto della nuova ternana è arrivata la gente di valore il gubbio per la difesa vira su giovannini per l'attacco piace masini e questa mi pare che è l'ultima notizia di cui possiamo dare conto perché abbiamo terminato i giornali e la lettura dei giornali del mattino buongiorno a tutti quanti voi ecco un poço